Grandi novità per Suzuki che al Salone di Parigi 2016 fa debuttare la nuova Ignis, Citycar dalle dimensioni contenute con un look da crossover. È lunga 3,70 m, vanta 18 cm di altezza da terra ed è equipaggiata con il motore 1.2 Dual Jet da 90 CV, abbinabile alla trazione integrale All Grip e al sistema ibrido SH-VS dotato di starter integrato e batteria agli ioni di litio. Sulla sicurezza attiva in una vettura così compatta avremo comunque anche il sistema con la doppia telecamera per la frenata automatica della vettura. Non possono mancare caratteristiche di infotainment, quindi possibilità di collegare i propri smartphone, è una vettura pensata per attirare un pubblico trasversale, ma soprattutto un pubblico giovane e un pubblico femminile. Interessanti news anche per la S-Cross, con un restyling che interessa principalmente paraurti, gruppi ottici e calandra, mentre l'abitacolo può ora contare su un sistema multimediale con schermo touch da 7 pollici. Sotto il cofano ci sono le due unità Booster Jet Turbo a benzina e l'affidabile 1.6 Turbo Diesel.